ciao freddy ehi ehi bunny hai visto il guardiano è di nuovo senza il costume oh beh sai com'è fatto già lo troveremo alla fine solo che è difficile con quella testa di freddy che sta usando beh come puoi vedere qui non c'è dunque perché non cerchi da qualche altra parte guardia l'otturna ora ti apro il culo cazzo di un attimo hai visto il guardiano si è proprio lì davanti a te no adesso è freddy no sta di nuovo facendo quella cosa con la testa di freddy sai confondere i tuoi scanner facciali la torcia del cazzo se è freddy perché continuo a spararmi quella cospita di torcia in faccia beh ovviamente lo spaventi io cosa ora ti cavo gli occhi forzi calmati no sono l'unico in questa dopaia a capire che quello è travestito ballon boy diglielo anche tu in realtà non mi interessa se sia freddy poi io sono in potessi servito se dolci succulente squisite batterie ne ho abbastanza mostragli chi sei quella è finita ok ragioniamo dov'è freddy non possono esserci due freddy no freddy ehi tada adesso abbiamo due freddy figo dio del cielo bonnie vengo lì a ti meno ma che state facendo che cavolo guardia notturna è lì saluto a me pare freddy ma porca miseria sei tu freddy e ora dove vai a freddy credo che tu l'abbia confuso bonnie ascoltami oh aspetta che ore sono oh mangre che ora è sono le 5.59 5.59 è lui il guardiano il guardiano il guardiano ragazzi sono io freddy il guardiano ragazzi sono io freddy il guardiano ragazzi sono io freddy Sì, 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 sì.